Un metro quadrato di Bosco si ridà prestigio alla via Viale Leonardo da Vinci che è la via del genio italiano che combascia con piazza Bromolincon e prosegue percorso le province. Quindi all'inizio di Viale Leonardo da Vinci, che è l'inizio anche della linea ferrata della stazione Borgo, sarà impiantata una raucaria. Da quel punto partirà un metro quadrato di bosco. Un metro quadrato di bosco significa che una scintilla si espande, una goccia di rugiada racconta l'oceano e tutti i possessori di piante, alberi, d'alto fusto che risiedono in vasi da anni che quindi hanno un apparato radicale pronto per essere ripiantate, il progetto consiste nell'adozione di queste piante per il percorso della ferrovia circometnea per tutte le stazioni. Cosa accarrà? Accarrà innanzitutto che la città adotterà questo percorso e involontariamente si farà dell'allendarte per tutto il percorso ferroviario con l'augurio e il buon auspicio che l'apparato ferroviario nazionale e globale possa prendere esempio da questa bellissima realtà che è la ferrovia circometnea di Catania un metro quadrato di bosco e se avete alberi ad alto fusto radicati da tempo donateli, contattatemi e vi documenterò dove saranno impiantati questi alberi in memoria della persona che vorrete ricordare. A presto, grazie.